buongiorno a tutti mi chiamo roberto caffo e ho 29 anni e sono della provincia di taranto sono qui per condividere il progetto travel it legato alla scoperta dei siti archeologici artistici che che costellano il territorio pugliese e appunto una questa è una prerogativa di travel it che è una bellissima associazione e che ho avuto modo di scoprire attraverso instagram io vi propongo la scoperta del castello episcopio di grottaglie tra i luoghi più interessanti da visitare di grottaglie interessante cittadina della provincia di taranto vi è il castello episcopio le sue origini sono molto antiche risalgono al medioevo intorno al 14 secolo mentre nel nel diciottesimo secolo questa questa imponente e massiccia questo imponente massiccio presidio storico è diventato la residenza la residenza estiva ideale del del clero tarantino ancora oggi è possibile visitare gli gli ambienti ancora intatti nell'anni in tutta l'estetica in pietra che lo caratterizza e poi principale attrazione turistica e il museo della ceramica un contenitore di eccellenze artigianali locali che si si suddivide in tre principali aree tematiche fra queste abbiamo quella dedicata all'archeologia quella dedicata ai presepi e quella dedicata alla maiolica vi auguro un buon proseguimento di giornata grazie a tutti